Siamo presenti per intervistare un giocatore della nazionale americana che ha appena finito di giocare la partita. Questa è la vostra prima volta in Italia? No, non è. Ho giocato con Fiorentina per i ultimi tre anni. Ho conosciuto la cultura e tutto questo. E mi piace. Italia è uno dei migliori paesi che ho iniziato. Grazie. Cosa pensi del nostro paese? È molto bello. È uno dei paesi che mi piace. È sempre il miglior paese che ho sempre pensato. Siamo contenti di questo paese contro l'Italiano? Sì, sono. È un paese molto buono. È un paese molto forte, talento e intelligente. Sì, ma hai giocato un giocatore di football qui. Il paese mi è stato molto interessato. Perché sei davvero molto forte. Cosa sono i tuoi sogni? Mi sono i tuoi sogni di giocare in Serie A. Ho spero di giocare per uno dei più grandi club qui in Italia. E rendere il mio futuro un successo. In quale club di football vuoi giocare in Italia? In Italia? La Fiorentina. Serie A. Ok. Chi è per te il miglior giocatore del mondo? E il miglior giocatore del mondo? Penso che il miglior giocatore del mondo è Messi. Il miglior giocatore del mondo è Maradona. Del miglior giocatore del mondo. Qui ti ha inspiro quando ti giocisci ai football? Mi ha inspirato il miglior giocatore del mondo. Chi ha la vita dei miglior giocatore di Maradona? È molto talento. Hai giocatore di Napoli, so lei. È molto talento. È più talento e ho sentito davvero che sappia i game. È intelligente e è una delle migliori giocatori in mondo. Chi è il tuo spettacolo favorito? Il tuo spettacolo è Lionel Messi Lo amo, è fantastico Grazie, tutto Grazie Questo è tutto per Is It Gone Air Grazie